SIGLA Uno spettro si aggira per il web. Lo spettro di Daily Cogito. Zombie si è davvertiti. Buonasera Villa Torlonia. Ma siete bellissimi, non vi vedo, è per quello che siete bellissimi. Buonasera, bentrovati e bentrovati a tutti e tutte qui in questa serata, che è la quinta serata di questa piccola follia chiamata Stand Up Cogito. Stasera staremo veramente in piedi, di solito con gli ospiti abbiamo fatto un sit-down Cogito, invece oggi io e l'ospite che qui mi sembra non conosca nessuno peraltro, cioè qui è un forestiero, è uno che, cosa volete, non conosce nessuno, l'abbiamo tirato qui perché aveva bisogno di un po' di visibilità e allora abbiamo detto ma sì dai, cerchiamo di aiutare le persone bisognose e allora questa sera cercheremo di fare ciò che abbiamo fatto in ogni altra serata, cioè voi siete qui di domenica sera alle 21.15 e non sapete di cosa parleremo, questa è una cosa che non so se è un buon per noi o io un mal per voi. In realtà però qualche indizio ce l'avete, sapete che si tratta di una cogitata e quindi si tratta di non tanto un'intervista, non tanto una chiacchierata, ma un metodo di ricerca. Perché questa è la cogitata, si cerca qualcosa insieme e cercheremo qualcosa intorno al concetto di verità, perché questo primo Stand Up Cogito Tour, perché è il primo e ce l'aspettano molti altri, ha il titolo Quasi tutto vero. La verità è una cosa complicata da trovare, da cercare, da riconoscere, da mantenere, da rispettare e con l'ospite di stasera cercheremo di capire perché la verità è così misteriosa. Questo è il fulcro della serata. Prima di chiamare l'ospite voglio anche ringraziare ovviamente tutti voi che siete qua siete meravigliosi, quindi fatevi un altro applauso. È una grande emozione essere qua. Io a Villa Torlonia ci sono stato altre volte, ma sempre fuori. Qui invece c'è un clima particolare, veramente bello. Ringrazio anche lo sponsor dello Stand Up Cogito che è NordVPN, poi anche per chi è online, che saluto. Ciao bella gente in live, avrete un messaggio pubblicitario perché insomma queste cose qua ci permettono veramente di arrivare a voi e direi di non tergiversare ulteriormente e io accoglierei con un applauso molto discreto, molto timido, l'ospite di stasera, Roberto Mercadini! Grazie. Grazie. Che bello che è essere qua. Grazie. Sentini, sentini. Non applauditelo più, cioè sono io lost, sono io lost, non ho capito. Lui gioca in casa, gioca in casa, non è mica giusto. Allora, Rob, ma tu la dici la verità, cioè la dici la verità, quanto ti piace Rick Luffer? Tantissimo. Tantissimo. Quando ti piace dei nicolini, no la smetto, la smetto, la smetto. Intanto come stai Rob? Bene, bene. Sei a tuo agio? Ma guarda, mi sembra di essere sempre stato qua, guarda. No, è soltanto una fantasia che ti racconti. Ah sì? Sì, sì, sì. Però tranquillo, di fantasia questa sera ne esploreremo molte. Certo. E soprattutto la fantasia delle fantasie, la fantasia della verità. C'è una bellissima frase di un autore che è Alfred Jarry, il fondatore della patafisica, che dice la verità è la più immaginaria tra tutte le soluzioni. E questa cosa qua è spiazzante. La verità è una cosa cangiante, è una cosa che ci mette in difficoltà. E vorrei aprire questa cogitata con te, facendoti una domanda. Insomma, le cogitate sono sempre così, io parto da cose che interessano a me, spero che interessino anche all'ospite, cerchiamo di trovare qualcosa, un nocciolo comune. C'è quella frase bellissima di Eraclito che ho già citato una volta, però ho lasciato lì così durante un'altra serata dello stand-up cogito. A un certo punto Eraclito dice l'enigma che io sono, che è un aforisma così buttato lì. E cos'è che sta dicendo Eraclito? sta dicendo che trovare la propria verità è risolvere un enigma, o almeno approcciare a un enigma. E l'enigma sembra una cosa molto distante della verità, perché l'enigma è una cosa misteriosa, il mistero è la verità. E allora vorrei chiederti, tu intanto se sei un enigma, e cosa vuol dire essere un enigma secondo te? E poi che cosa è la verità per te? Cosa vuol dire cercare la verità? Allora io penso che ognuno di noi sia un enigma e se il greco Eraclito diceva l'enigma che io sono, nella Bibbia c'è un'espressione che è ancora più estrema, perché nel Salmo 63 si dice un baratro è l'uomo e il suo cuore è un abisso. Quindi è qualcosa di talmente oscuro all'uomo, talmente profondo, che non può sperare di conoscersi, che il grosso di sé, il cuore di sé è nascosto alla sua vista, forse impenetrabile, forse irraggiungibile. Non è un caso, forse, che il padre della psicanalisi sia un ebreo. Allora cos'è la verità? Ci ho pensato e ho formulato questa definizione, che la verità è qualcosa che noi bramiamo, qui aneliamo, con tanta veemenza, tanto disperatamente, che siamo disposti, pur di raggiungerla, a credere il falso. Mi piace? Mi piace, mi piace, è una definizione ad effetto. Allora se tu ci pensi, ti dico un'altra cosa che sembra paradossale, ma per me ha un senso, poi la spiego meglio. La verità ha due facce, che è una cosa che di solito si dice dei mentitori, che hanno due facce. La verità ha due facce, in che senso? La verità è due cose. Una è l'istinto che noi abbiamo di andare verso la verità. Nessuno di noi può tollerare l'idea di vivere nel falso, di non conoscere la verità, di accontentarsi di una falsità rassicurante. Tutti noi abbiamo il bisogno di pensare, di conoscere la verità, abbiamo il bisogno di cercare la verità. Ma contemporaneamente l'idea di conoscere la verità è qualcosa di irresistibile perché ci rassicura, ci mette il cuore in pace, ci fa credere di avere le risposte. E quindi da un lato è un bisogno, è un pungolo, è qualcosa che ci spinge anche all'avventura, è qualcosa per cui ci diciamo disposti ad affrontare anche avventure pericolosissime. E dall'altro è qualcosa che ci rassicura, che maternamente ci coccola, che non vogliamo abbandonare. E noi non siamo facilmente disposti a mettere in gioco le nostre verità, quello che noi pensiamo essere vero. Noi a volte siamo aggressivi, siamo cattivi contro chi minaccia le nostre certezze. Diogene Laerzio racconta di Socrate che minava le certezze altrui con il suo dubbio, con la sua ironia socratica e le persone si arrabbiavano con lui. Gli hanno dato lo sprizzo alla cicuta. Sì, ma viene raccontato proprio di persone che lo malmenono, che tirano la barba, che lo prendono a calci. Cioè, noi siamo affezionati alla nostra verità. Allora, la verità è due facili in questo senso qui. Da un lato è quello che noi aneliamo, per cui siamo disposti anche a un'impresa avventurosa e dall'altra è qualcosa che ci rassicura e che non vogliamo mollare e che a volte ci induce a chiudere gli occhi e le orecchie. Sai, questa ambivalenza che racconti della verità si ritrova in tantissimi aspetti della vita umana. In effetti, quante sono le cose a cui tendiamo ma che al tempo stesso ci fanno male? Pensa soltanto, non so, una cosa molto vicina alla verità. Il mito dell'origine. Ok? Visto che hai citato Freud, sappiamo benissimo, Freud era convinto di una cosa, che noi esistiamo per tutto il tempo della nostra vita soltanto per tornare a un luogo. L'Utero? Esattamente. E l'ho fatto gestualmente tu, letteralmente, quindi bene. E questo al tempo stesso ci coccola come idea perché pensiamo a quell'origine in cui eravamo pre-personali, pre-dolori, pre-preoccupazioni e quindi non avevamo tutti i pensieri che poi ci arrovellano per tutto il tempo. Tra il tempo stesso è estremamente complicato, in primo luogo perché vabbè non si può fare esattamente come vorrebbe la nostra vita. Insormontabili difficoltà tecniche. Ma in secondo luogo perché ha a che fare con le relazioni, un po' di difficoltà tecniche, ma in secondo luogo perché, a meno che tu non sia Benjamin Button ovviamente, e poi c'è un sacco di difficoltà anche perché ha a che fare con le relazioni, con il fatto che tu sei una creatura che progredisce in avanti, che invecchia. Quindi il mito dell'origine è un'idea che ci fa, che ci dà conforto ed è anche crudele perché è irraggiungibile. Mi viene in mente Kierkegaard quando dice che l'essere umano è sempre teso fra la tendenza all'empirismo, al limite e la tendenza all'illimitato. L'idea dell'illimitato, che è vicina all'idea di verità, al tempo stesso è straordinaria, è ispiratrice, però poi ci getta nello sconforto perché ci rendiamo conto che non abbiamo i mezzi, perché siamo limitati, perché siamo nel mondo, gettati nel mondo e con quello che abbiamo dobbiamo fare i conti. E quindi questa ambivalenza è estremamente interessante perché ci fa capire quanto la missione che l'essere umano si dà, se possiamo chiamarla missione, si è già persa in partenza. La missione della verità è completamente persa in partenza. È sempre paradossale la ricerca della verità, no? Pensa, mi hai chiesto di affrontare il tema anche dal punto di vista delle religioni, no? Pensa a cos'è la verità per un cristiano che viva all'interno della comunità ecclesiastica della Chiesa, no? Ci sono delle verità indiscutibili che sono i dogmi, ok? Già questo è strano, la parola dogma è strana perché viene dalla parola greca che significa decido, decreto, ma la verità non si decide, della verità si prende atto, non è che tu decidi cosa è la verità, quindi vabbè. Però sono verità indiscutibili i dogmi. Quindi quando il Papa proclama un dogma, tu da buon cristiano che vive all'interno della Chiesa, in teoria devi prenderlo per buono. A che uno ti può chiedere, sì, ho capito, ma come fai a sapere che quella è la verità? Perché il Papa, ora è Giorgia. È ok, ma tu come fai a sapere che il Papa dice la verità quando proclama un dogma? Allora c'è un metadogma, c'è una metaverità, che è il dogma dell'infallibilità del Papa quando proclama dogmi, giusto? Ok, è come quando ti metti il mi piace al tuo stesso post Facebook. Il metami piace al mi piace del post di Facebook. Però quella metaverità lì, quel metadogma, regge tutto. E se tu a un certo punto ti senti molto a disagio con quello che dice il Papa, giusto un po', tu hai due scelte. Una è rivedere il tuo sistema di valori, la tua coscienza, quello che ti sembra giusto o sbagliato. E l'altro è pensare che il Papa quando proclama il dogma a volte non ci prende. Quindi sei costretto ad attaccare il metadogma. In questa situazione qui, secondo me, non stanno solo i cristiani. Cioè nel caso dei cristiani la situazione è particolarmente chiara, perché lì c'è un'autorità proclamata, questi principi qui sono decretati nero su bianco. Però credo che ciascuno di noi abbia la sua comunità di riferimento, che può essere la comunità scientifica, una volta poteva essere il partito comunista. Cioè è qualcosa che è antitetico. Capito? E c'è una dose di fede cieca che ti mette al riparo dal sentirti orfano della verità. Mi ha fatto venire in mente, tu sai che, e qui mi rivolgo anche a chi ci ascolta perché questa è una cosa di cui bisogna rendersi conto, se siete cattolici dovete sottostare dei dogmi. Ora, il dogma della transustanziazione per me è uno dei più straordinari. La transustanziazione è stata decretata come dogma al concilio di Trento, quindi insomma qualche secolo fa, e dice che ogni cristiano deve credere fermamente che quando sull'altare il sacerdote dice questo questo è il mio corpo, quello non è più pane, ma è letteralmente corpo di Cristo. Stessa cosa per il vino, diventa letteralmente sangue. E io sono convinto che nel 2022 la gran parte delle persone che hanno una fede cristiana pensa a una metafora, a una metafora. di fatto siete degli eretici, perché ciò che è stato decretato in quel concilio vale ancora oggi. Il dogma va preso alla lettera, ed è una cosa che mi ha sempre fatto pensare perché poi parli dei matrimoni, dei sacerdoti, aperture mentali, però ancora pensi che la particola diventi il corpo e devi prenderlo come dogma letterale. I dogmi sono interessanti perché i dogmi, come dicevi tu, sono delle verità che ci raccontiamo che dovrebbero fondare poi la verità assoluta. Però questo è un controsenso perché se io ho fede nel fatto che Gesù era il figlio di Dio e si è sacrificato per il perdono dei nostri peccati, questa verità, visto che è una verità di fede, non dovrebbe essere sorretta da verità particolari e, diciamo così, empiriche. Cioè il fatto che il Papa sia infallibile è una verità che non è data dalla Bibbia, non è scritta nei Vangeli, è data, diciamo così, da una decisione terrena ed è molto empirica, una decisione che definirei quasi politica. Sulla base di quel dogma poi si costruisce tutta la dottrina perché il cristianesimo ti viene insegnato in un modo che è approvato da quelle persone infallibili. Quindi la tua fede, che dovrebbe essere primaria, assoluta, la verità, è sorretta da delle verità che sono dogmatiche ma che ovviamente sono molto più discutibili. Questa è la cosa interessante. L'infallibilità del Papa è più discutibile della natura divina di Gesù. Attenzione, è discutibile non perché l'una sia vera, l'altra sia falsa, ma perché io posso discutere degli errori di un uomo, non posso discutere della natura divina di un essere umano vissuto duemila anni fa. Questo rovesciamento io, devo dirtelo, l'ho sempre vissuto come la grande insicurezza insita in ogni religione. Il fatto che, in fin dei conti, la fede, che dovrebbe sorreggersi solo in virtù della fede, non riesce a stare in piedi solo con la fede. non ce la fai. Perché abbiamo bisogno di realtà, abbiamo bisogno di certezze empiriche. Cioè il dogma, in fin dei conti, è questo, se ci pensi. Sì, è un punto di partenza arbitrario su cui si costruisce... Qualcosa di universale. Qualcosa di universale, sì. È del paradossale questa cosa. Sì. Ed è una di quelle finzioni di cui parlavi prima. Cioè tu hai detto, la verità è qualcosa in cui crediamo e siamo disposti alla più finta delle finzioni. Sì, siamo disposti a credere in falso. A credere in falso. Sì, è spinoso il tema della verità. Non fate battute su Spinoza, eh. Spinoza. Faccio un macello. Adesso poi parliamo anche di Spinoza. Spinoza è interessante perché è stato espulso dalla comunità ebraica. Ok. Ora, ce ne vuole. Nel senso che... Ecco. Nel senso che non esiste l'eresia nell'ebraismo. Cioè c'è uno spazio di manovra molto ampio. Perché il discorso qual è? Il discorso è questo qui. L'assunto fondamentale dell'ebraismo, non lo chiamo dogma perché non viene chiamato dogma, però è che la Torah, che è la Bibbia, è Devar Elohim. È la parola di Dio. Dice, vabbè, allora bisogna sottomettersi. Eh, no, un momento. Siccome la parola di Dio è infinita, cioè infinitamente significante, è infinitamente ricca di verità, quindi nessun uomo da solo può estrarne tutta la verità. Certo. Ciascuno ha il dovere e il diritto di interpretare la Bibbia e trarne la sua parte di verità come una miniera inesauribile in cui a ciascuno è dato di trovare le sue pietre, le sue pepite. Non so se mi spiego. Certo. Ok. E gli ebrei interpretano la Bibbia in tutti i modi possibili. In tutti i modi possibili vuol dire in tutti i modi possibili, cioè dall'interpretazione letterale di un passo al collegamento fra due parole, collegamento fra due passi perché contengono la stessa parola. Siccome non ci sono in ebraico dei segni per i numeri, cioè noi abbiamo i numeri arabi, le cifre dei numeri arabi e l'alfabeto latino. Ok. Gli ebrei scrivono i numeri con le lettere. Quindi ogni lettera ha un valore numerico, quindi ogni parola ha un valore numerico che è la somma dei valori numerici delle singole lettere. C'è questa tecnica che si chiama gematria per cui se due parole hanno lo stesso valore numerico vuol dire che esiste una relazione fra di loro. Wow. Cioè qualsiasi, qualsiasi, qualsiasi tipo di interpretazione, dalla più filologica alla più esoterica. C'è un testo cabalistico che si chiama l'alfabeto di Rabia Kiba, Rabia Kiba è questo grande maestro, dove vengono commentate le 22 lettere dell'alfabeto ebraico. Ed è come leggere, segui i manuali dei tarocchi, qui viene interpretato ogni arcano maggiore, qualsiasi modo. Cosa succede? Cosa succede quando l'interpretazione di due persone è in conflitto? Chi decide chi ha ragione? Non c'è un tribunale, non c'è un'autorità. Ora, devono discutere, devono discutere appoggiandosi sull'unica autorità del mondo che è il domare lui, la Bibbia. Cioè io e te discutiamo, io do l'interpretazione della Bibbia, dopodichè la valoro con altri passi della Bibbia. Tu smonti la mia interpretazione, come? Con altri passi della Bibbia. Io smonto il tuo smontaggio con altri passi della Bibbia, tutto così. E loro si allenano a fare questa cosa, tanto che nella Yeshiva, cioè nella scuola rabbinica, si studia a due a due, litigando, prendendo dei passi della Torah o del Talmud e litigando. E ognuno deve dare un'interpretazione diversa. Se il passo è troppo complicato, per cui nessuna delle due parte ce la fa, si chiama il rabbino, il rabbino dà un'interpretazione e il dovere dello studente a quel punto lì è contraddire il rabbino. Non so se mi spiego. Sì, sì, sì. Allora, una volta una signora mi ha raccontato... Ma chi li paga poi? Chi li paga quando fanno così? No, sto scherzando ovviamente. Cioè... Prima domanda. Capito? Nessuno può dire ho ragione io. Certo. Perché sono più anziano, perché sono più autorevole, perché sono più intelligente, perché sono più esperto, perché sono più... E su questo è interessante perché già emerge un'immagine della verità. Cioè la verità è il prodotto della molteplicità di visioni su parti della verità. E quello, se ci pensi, è un po' quello che diceva Nietzsche, ovviamente qualche secolo dopo rispetto ai primissimi studiosi della Torah. Però Nietzsche ribalta la metafisica occidentale, la quale era sempre stata piuttosto convinta che ci fosse una verità da disvelare. Schopenhauer, Platone, Plotino e via dicendo. E Nietzsche afferma, palesemente una cazzata, cheat, genealogia della morale. E dice in realtà ciò che chiamiamo verità è letteralmente l'insieme di tutte le prospettive che si possono avere su ciò che chiamiamo verità. Che in realtà poi noi vediamo soltanto delle parti di realtà. E quindi poi ovviamente Nietzsche entra anche in un pensiero molto più relativista. Cioè l'ebraismo è comunque convinto che ci sia una verità da contemplare. Solo che è una verità che non può essere contemplata da un individuo, non può essere compresa da un individuo, da una mente. Ci vuole il lavoro culturale di tutta la comunità e via dicendo. Nietzsche non è convinto che ci sia una verità. Nietzsche afferma che ci sono tantissime verità, ovviamente. Il mondo è parcellizzato e tutti noi possiamo per giungere, diciamo così, a una di queste verità grazie all'insieme di prospettive che collettivamente costruiamo su quella verità. Che è un approccio che ovviamente ha a che fare con un certo tipo di relativismo, però ci dice una cosa importante. Ci dice quello che abbiamo affermato prima. La verità è un mistero, ma ancora di più è una missione impossibile. E io credo che sia un po' questo il punto che porta, perché tu parli tanto di religione, parli della Kabbalah, del linguaggio ebraico e sono tutte cose molto affascinanti. Tu lo fai da studioso. Però voglio porti questa domanda allora. Dal momento in cui la ricerca della verità è una cosa così distante da noi, così impossibile arrivarci, allora capita che tanti perdano le speranze durante il cammino. Ok? E quando perdi le speranze durante il cammino possono accadere due cose, semplificando molto. Da un lato puoi cadere in una sorta di nichilismo, un relativismo che ti porta però a dire vabbè, niente ha significato, perché se la verità non è raggiungibile significa che ogni cosa vale l'altra. E questo magari lo affrontiamo dopo. Però c'è l'altro aspetto che è quello di allora seguo qualcuno che mi mostra di aver già capito la verità. E lì si fonda una delle forze più negative di quello che è il nostro mondo culturale. Cioè il guru. Qualcuno che ti dice io ho contemplato, un po' come il filosofo della caverna di Platone che esce, vede la verità e dice aspetta che torni indietro a svegliare quegli altri. E al posto di venire preso a schiaffoni gli altri lo seguono. E quindi la domanda che ti pongo è questa. Vista la prospettiva che hai descritto della verità, come si fa a cercarla quella verità o comunque a capirla, a interessarsi, a incuriosirsi, a scavare, senza da un lato demoralizzarsi e dall'altro senza cadere nei finti maestri di cui il nostro mondo è assolutamente straripante. Allora, come si fa a non cadere nei finti maestri? Parto da questo qui. Secondo me un vero maestro è uno che ti invita a dubitare di lui. Cioè, non esiste. Cioè, secondo me, se uno ti dice fidati di me che io ho la verità, non puoi essere un maestro. Perché questa impostazione mi viene dalla scuola, ok? A scuola ci sono degli insegnanti, non sono dei maestri di vita, però sono degli insegnanti. Ti insegnano delle cose, per esempio la matematica, ok? Cioè, qual è la cosa commovente e irrinunciabile che c'è in quei maestri lì? È potentissima nell'umiltà del contesto scolastico, della noia delle lezioni di matematica. Che l'insegnante di matematica ti spiega un teorema, va bene? Il teorema è la verità. Cioè, il teorema è una cosa di cui è provato matematicamente che è vero. Cioè, non c'è una cosa più sicura, più vera di un teorema, ok? La terra piatta. L'insegnante non ti dice questa è la verità, imparatela e zitti. A me lo diceva. Non era un buon insegnante di matematica. È un pessimo insegnante di matematica. Quella non è una lezione di matematica. La lezione di matematica consiste in questa cosa qui. Al liceo, come all'università, l'università più che al liceo. L'insegnante si comporta come se tu dovessi dubitare di lui e lui fosse in dovere di dimostrarti che ha ragione. E ti fa la dimostrazione contro la tua volontà. Perché? Esatto. Perché non mi ha chiesto il consenso. Sì, perché il teorema a volte è una riga. La dimostrazione può essere pagine e pagine. Il teorema a volte è quasi intuitivo. Il teorema è l'atto. Ma dopo la dimostrazione sono le coccole e i corteggiamenti. Giusto? Cioè stai dicendo questo? Ho mandato in confusione Rob. No, sto scherzando Rob. Sto scherzando. Rob sto scherzando. Ho visto Rob perdersi. Perdersi. No, ho tentato di capire la metafora. Voi dovete sapere che io ho una passione. Mandare in confusione Roberto Mercadini è una cosa che mi piace da morire. Ho tentato di capire la metafora. No, la vera matematica è la dimostrazione. Certo. Ci siamo persi. L'atto è la dimostrazione semmai. Il teorema è i preliminari, insomma. Salute. Era legato alla mancanza di consenso. Al fatto che di solito i preliminari sono un po' più fastidiosi. Non mi permette neanche di fare le battute da Gian Riccala, ragazzi. Eh sì. Non me ne fa scappare una, quest'uomo. Sono impermeabili. Allora, capito? Capito? Ah, capito. Se tu vorresti tanto poterti fidare, professor, metta giù quel gesso. Certo. Non puoi fidarti. Certo. Allora. L'insegnante vero, il maestro vero è quello che ti chiede di non fidarsi di lui. E nel feddone di Platone c'è una cosa meravigliosa che fa Socrate. Socrate ha ingerito la cicuta. Buona. Buona. E aspetta di morire. No, aspetta, aspetta. No, no, no. Scusa, scusa, scusa. Stanno aspettando quello che porta la cicuta. Che è in ritardo. Che è in ritardo. Soliti baristi. Baristi. Ragazzo. Ragazzi. E lui, però lo stanno aspettando, morirà. Morirà di lì a poche ore. E Socrate fa un discorso e dice, guarda, io morirò. Però non sono triste. Non sono sconsolato. Perché? Certo il mio corpo morirà. Ma l'anima no. Perché l'anima è immortale. E spiega perché secondo lui l'anima è immortale. A quel punto lì prende alla parola un discepolo, simia, che spiega che secondo lui non c'è tanto da stare allegri. Perché secondo lui l'anima non è immortale. E spiega perché secondo lui l'anima non è immortale. Momento giusto. Momento giusto. Peraltro simia in Veneto significa scimmia. Quindi, ragazzi, non so in romagnolo, ma è sinassimia. Perché fa un discorso che, come lo vogliamo considerare? Inopportuno? Possiamo immaginare le reazioni... Pezzo di merda. Anche inopportuno, però mi immagino, Socrate fa... A pezzo di merda. Possiamo immaginare le reazioni degli altri discepoli. Schiapponi. L'anima non è immortale. Pam! E nel fedone Socrate dice Bravo. Hai ben parlato. Non sono d'accordo. Adesso ti spiego perché non sono d'accordo. Ma hai articolato bene il ragionamento. E guardate che lui è stato bravo, dice agli altri discepoli. Perché voi non dovete avere rispetto di me che sto per morire. Voi dovete avere rispetto della verità. E guardate che abbiamo tutti una bruttissima malattia, dice lui, Socrate. Che è il tentare di convincere gli altri che abbiamo ragione. Ma cosa ce ne viene? Se io ho torto e convinco un altro della mia idea, rimango nel torto e ci porto con me anche lui. Noi non dovremmo tentare di vincere le discussioni. Dovremmo tentare di raggiungere la verità. E quello che discute con noi, anche se non è d'accordo, è il nostro compagno di lavoro, è il nostro compagno di viaggio. Cosa importa se la verità è più vicina al punto da cui ho cercato io, ho cominciato io a cercare, più vicino al punto da cui ha cominciato a cercare lui, o ugualmente distante da entrambi. L'importante è trovarla. Certo. E io devo guarire da questa malattia qui. Perché sto per morire e rischio di non morire da filosofo. E voi dovete guarire. Perché siete giovani. E rischiate di vivere tutta la vita da malati. E sai, e continuano a discutere. Quindi continuiamo a discutere su questo fatto. se l'anima sia o no immortale. È un tema che ha una certa pregnanza per lui. È difficile discutere in modo distacco. Vorrei intervenire su questo. Se vi capita di essere vicini a una persona che non sta bene per vari motivi e dovesse essere, diciamo così, più di là che di qua, non fate come Simia. Cioè io ve lo consiglio con tutto il cuore. Va bene. Fare i filosofi. È bellissimo. Lì, ditegli. Anima immortale. Il giusto consiglio per il mantenimento delle relazioni minime. Secondo me. Perché sai, i filosofi ci hanno sempre... A me questo episodio fa venire in mente quando Epiteto dice al suo discepolo che gli chiede ma perché ci arrabbiamo? E lui gli dice, beh, ci arrabbiamo perché diamo importanza a cose che non hanno importanza. Non dare importanza al tuo mantello e non ti arrabbierai con il ladro. Non dare importanza alla bellezza di tua moglie e non ti arrabbierai con l'adultero. Ok? Che è una bellissima frase. Ma non fatelo. Cioè, nel senso, dite a vostra moglie che è bella e che è una cosa importante perché sennò una moglie non ce l'avrete ancora a lungo. I filosofi sono meravigliosi. Poi cagliamo tutto. Giusto un consiglio pratico perché sai poi da Socrate... Eh sì, quelle sono le vette. Sì, esatto. Però, è vero. Se uno ti dice, fidati di me che io so la verità, non mettere in dubbio quello che dico, per me già non può essere un maestro. Certo. Allora, in tutto questo, io sono molto concordo e poi, insomma, quando qualcuno in generale, qualsiasi ruolo ha, ti dice che ha visto qualcosa che gli altri non possono vedere e che solo lui può indicarti quella cosa, evidentemente, è meglio dubitare. Questo è facile da vedere quando ci sono problemi come quelli matematici. In fin dei conti, nella matematica, perché è un linguaggio così meraviglioso? Perché è un linguaggio aperto. Cioè, è squadernato. Tu puoi sempre prendere e andare a verificare, padroneggiando nel linguaggio, ciò che sta dietro un teorema, ciò che sta dietro qualsiasi cosa. Un'equazione. Però, poi, la vita umana è fatta anche di tantissimi aspetti che non hanno teoremie e non hanno equazioni e non hanno dimostrazioni. L'esempio di Socrate sull'immortalità dell'anima, che è molto ispirante, però, effettivamente, quello che Simia dice in quel dialogo, la risposta di Socrate, ha un problema di fondo. Che quella questione, che ci piaccia o meno, è inconoscibile. Cioè, tu puoi andare avanti a discutere finché vuoi della mortalità e dell'immortalità dell'anima, ma alla fine dei conti si arriverà soltanto al momento in cui Socrate e Simia diranno l'anima è immortale. L'anima è mortale. Perché? Perché non c'hai la dimostrazione. E la vita umana è fatta di tantissimi aspetti di questo tipo. Adesso la morte è il più greve, però pensa soltanto all'amore quando qualcuno si chiede cosa vuol dire innamorarsi. Cos'è la fiducia nei confronti di un amico? Cos'è l'amicizia? Tutte queste cose sono estremamente delicate e ci colpiscono ancora più intimamente rispetto al teorema di Pitagora. Perché lo viviamo ogni giorno. E lì allora, la questione è, se io di fronte a un maestro che mi dice questo è il teorema di Pitagora, fidati di me. Posso dire, fai meglio il tuo lavoro. Di fronte a questioni che hanno a che fare con l'intimità soggettiva dell'essere umano è molto più complicato. Perché tu ti dovrai arrendere il fatto che la dimostrazione non c'è. Che potrai argomentare, ma alla fine dei conti per capire che cos'è l'innamoramento, per capire cosa significa affrontare la perdita di qualcuno, non c'è dimostrazione, non c'è risposta giusta. Non c'è una verità. O meglio, non c'è un meccanismo che costruisca la verità. E allora è in quell'ambito lì che è molto più facile cadere preda dei finti maestri, dei finti guru. Perché se io vivo la morte di un mio amico, di mia moglie, di un figlio, che sono cose che devastano completamente l'essere umano, il Socrate che mi dirà dubita potrebbe essere completamente al di fuori anche di quello di cui sento di aver bisogno. E invece una persona che mi dica tranquillo, la persona che hai perduto ti guarda dall'alto. tranquillo, vi ritroverete. Tranquillo, vive in te. E mille altre cose. E io ti spiego come. Questa cosa qua, al tempo stesso, è un inganno, è una falsità, ma che può mettere a posto una vita. C'è un bellissimo film di Clint Eastwood che si intitola Hereafter ed è un film che racconta anche la storia vera di un uomo, che se non sbaglio negli Stati Uniti, interpretato da Matt Damon, è un medium, anzi un medium scusatemi, per l'anglesismo. e quando lui fa il suo lavoro, in realtà è una persona molto prudente in queste cose, però ciò che accade è che mette veramente a posto la vita delle persone, ma non dando loro il pensiero critico e via dicendo, ma semplicemente convincendole, persuadendole che lui in realtà può essere in contatto con il figlio, il fratello, la moglie, il marito, perduti. E allora mi chiedo, dal momento che queste verità sono così soggettive, intime e indimostrabili, non posso mostrarti il mio dolore per la morte di qualcuno, non posso mostrarti cosa è veramente l'innamoramento, non c'è una cosa che posso dimostrarti come una dimostrazione matematica. Allora, che ruolo ha questa cosa secondo te con la verità? Che tipo di inganno è questo? Che tipo di inganno è cosa? Il fatto di convincere qualcuno di aver capito, non tanto, magari tu sei convinto di aver capito che cosa è la verità in quell'ambito, e questa cosa però fa bene alla persona di fronte a te. Perché io ho questo dubbio, ok? Ah, ho capito. Io ho il dubbio, io sono cinico, ok? A me non piacciono queste cose qua. Però il beneficio che alcuni individui traggono dal maestro, così come dal sacerdote, dal buddista, che ti racconta quella che ai miei occhi è una frottola, ok? Una storia ben raccontata, ma che ti rimette a posto la vita, secondo me è una cosa che non dovremmo escludere così a priori. Cioè essere non Socrate, a volte, potrebbe essere la strada giusta. Cioè... Non so se si è eccitato. No, no. No, no. No, nel caso estremo... Però vedi, però la persona che ha perso un figlio e che viene convinta da un medium che in realtà lui può contattare il figlio tramite il medium, ha bisogno di credere che quella sia la verità. ma la persona che ha perso un figlio e attraverso... Ora, vabbè, il medium, metteteci in mezzo, perché poi i medium sono la cosa più becera di questa cosa qua, ma anche il sacerdote, via dicendo, che ti dice tuo figlio sta bene. Che è una balla, cioè nel senso tuo figlio non c'è più, ok? Perché se io dovessi stare nel cinismo empirista ti direi tuo figlio non c'è più. Non si può sapere se sta bene. Non si può sapere se sta male. Non si può sapere se sta. Non si può sapere neanche se tu lo ricordi in modo corretto. Non si può sapere se la memoria che tu hai di quella persona è una memoria inerente dei ricordi reali o delle fantasie. Quante volte capita questa cosa qua? C'è anche un bellissimo romanzo, c'è un capitolo in un romanzo di Sandor Marai in cui una moglie che ha perso un marito molto tempo fa a un certo punto si rende conto perché trova dei documenti che il ricordo che aveva del marito era completamente fuorviato. Dalle emotività, da ricordi alternativi, da fantasie, da cose che si era raccontate, da sogni. Questa cosa la distrugge completamente. Quindi la persona che semplicemente ti dà anche quel tipo di storia e ti dice, guarda, tuo figlio sta bene, ti aspetta. questo tipo di inganno. Ma il medium sa di ingannare? Secondo me in questo caso è ininfluente. Io guardo la cosa dalla parte di colui o colei che riceve questo messaggio. Se questo messaggio mi rimette a posto la vita, perché era il tipo di storia che mi serviva per riprendere il lavoro, ricostruire relazioni e via dicendo. Quella falsità, per me, non rischia di diventare la cosa più vera a cui io potessi ambire. è ovviamente una provocazione la mia. Cioè nel senso, io personalmente non penso che sia così. Però dall'altra parte i racconti di persone che sono state messe in sesto, da queste che dal mio punto di vista molto materialista sono delle frottole più o meno gravi, più o meno elaborate, mi fa dire, porca miseria, non solo per la verità saremmo disposti a raccontare il falso, ma è solo attraverso il falso che tu arrivi a conquistarti una verità che sarà tua. La verità che tuo figlio sta bene. Una verità talmente necessaria per la tua sanità mentale, psicofisica, che poi è ciò su cui si fonda tutto il resto della tua esistenza. E che non potrà mai essere contraddetta. Perché nessuno potrà mai provarti il contrario. Nessuno potrà mai provarti che... No, vecchio. Che l'anima non è immortale. No, tuo figlio... Esatto. Allora lì mi viene il dubbio. Capisci? Io ho il dubbio. Io ho il dubbio che da amante di Socrate, a volte non sia Socrate quello di cui abbiamo bisogno. Ma è quello che abbiamo detto all'inizio. Cioè è una cosa che bramiamo così ardentemente, che pur di raggiungerla siamo disposti... Eh ma voglio sentire se tu la condanni questa cosa qua. Se tu la ricercheresti questa cosa qua. Di fronte alla morte di un figlio... è una cosa che mi accecca il pensiero. Quindi... Faccio fatica a formulare un'idea. Lasciamo lì come pensiero che magari... Sì, cioè è la cosa più estrema che ci possa essere. Eh sì. Se ti dovesse dire io adesso razionalmente in possesso delle mie facoltà mentali, io ti direi che voglio la verità. Però a me è capitato da ateo di parlare con persone che avevano perso un figlio e che mi dicevano che con la preghiera e con la fede riuscivano a ricodagnare la pace che pregare per loro era come prendere una bucata d'ossigeno e io non riuscivo a non avere rispetto della loro fede. Certo. Pur essendo altro, capito? Cioè quando tu vedi che quella cosa lì lenisce il dolore di un genitore che ha perso un figlio, tu non puoi non avere rispetto. Io non riesco a non avere rispetto. Non riesco a pensare, si illude e sono panzane, capito? Provo a fare un'ulteriore elaborazione. Vai. Come sapete, ragazzi, le cogitate sono totalmente... È molto frivola questa serata, come vedete. Sono totalmente unscripted, quindi sappiate che... Sappiate che adesso cominceremo a navigare in acque ancora più turbolente. Di più. È più di così, lo so. Allora. Vai. Se io devo ragionare sulla natura di questo tipo di inganni autoinganni... Sì. Perché è un inganno, ok? Convincerti che il tuo marito morto, ok, o il tuo figlio perduto o qualsiasi cosa stia bene, è un autoinganno. Sei tu che ti racconti una storia che ti convince di... Secondo me in questo tipo di autoinganno ci sono due vie. Vai. Da un lato c'è l'autoinganno che ti rende immobile. Cioè l'autoinganno che non ti fa fare nessun passo in avanti nella tua vita, ma che in qualche modo ti spinge a tenere gli equilibri fermi fino a che qualcos'altro non li sconquasserà. che è un po' l'inganno consolatorio. Adesso magari cercherò anche degli esempi. Però poi ho un esempio per l'altro autoinganno. Ed è l'autoinganno che ti porta a compiere qualcosa di concreto. E mi viene in mente l'Amleto. Quando Amleto ha la visione di suo padre defunto, il fantasma, ora Shakespeare è molto bravo a raccontarmela, ma io non me la bevo. Cioè nel senso quello è tranquillamente passabile come una visione onirica, un'allucinazione e in effetti lo stesso Amleto fino alla fine sarà convinto che quello sia stato un momento di follia. E quindi escludendo il fatto che quel fantasma fosse veramente il fantasma di suo padre, quell'autoinganno fa fare delle cose ad Amleto. Cioè Amleto attraverso quell'autoinganno mette in scena l'omicidio del padre e di fatto svela, certo poi con un epilogo discretamente tragico che non consiglierei insomma. Però svela l'assassino, svela la trama. Quindi di fatto svela la verità attraverso quell'autoinganno. Peraltro con un altro inganno che è quello della finzione teatrale perché mette in scena uno spettacolo per far venire fuori quello che è successo veramente. E anche con l'inganno di fingersi pazzo. E anche l'inganno di fingersi pazzo. E quindi ci sono degli autoinganni che mettono in moto. In fin dei conti la fede che è quella di cui tu hai parlato e che hai detto io ne ho rispetto. La fede è un autoinganno che mette in moto. che è contrapposta invece alla fede che in realtà è più definibile come per esempio religiosità in cui tu ti crei dei piccoli autoinganni che però servono non a andare avanti, non a esporti nei confronti della realtà, non a progredire come individuo ma ti permettono di tenere le cose in ordine, confortevoli, ok? Storielle che ti permettono di stare a posto con te stesso. Cosa che non fa Amleto. Anzi, Amleto con quell'autoinganno si prende il rischio più rischioso al punto anche di sacrificare un amore, amicizia, insomma un disastro che anche lì non si consiglia a nessuno. Però ecco, io credo che ci sia la possibilità che l'inganno, come ci racconta Shakespeare, ti porti alla verità. Ok, allora diciamo così, vai, che ci sono delle autosuggestioni o degli autoinganni che però riescono a sbloccare delle energie in noi, delle risorse che altrimenti sarebbero state rinchiuse e il fatto di essere così limitati era un nostro inganno a nostra volta. Noi non conoscevamo il pieno delle nostre possibilità. Allora è come se l'inganno fosse solo un grimaldello, un piede di porco che serve a scardinare la scatola che teneva chiusa la verità. Non so se vi spiego. Allora quel punto lì è legittimo. È legittimo però sai qual è il problema? È che non puoi giudicarlo a priori. Cioè, quell'autoinganno non puoi capire a priori se effettivamente ti porterà a qualcosa di buono. È quello il maledetto trucco che la realtà ci pone. Cioè i nostri limiti, quando tu ti racconti una storia che in qualche modo ti fa uscire da uno stato di crisi, da uno stato di depressione, quando tu ti racconti una storia non sai se quella storia ti porterà fuori dalla caverna oppure dentro una caverna ancora più profonda e terrificante. Sì. Quindi lo misuri solo a posteriori quello. Sì. Ed è un casino. Certo. Ma è un processo di incessante verifica. Tu provi qualcosa su te stesso. Sì. Provi una visione del mondo diverso. Un modo diverso di vedere le cose. senti delle emozioni forti. Dici mi sto ingannando o sono arrivato a un livello superiore di consapevolezza, di intelligenza. Sto meglio. Ma fino a quando starò meglio? Sto meglio perché mi sto illudendo e poi quando l'illusione svanirà starò peggio di prima. ed è un viaggio in cui tu periodicamente ti verifichi, devi passare una revisione. E io vivo così. Vivo con periodici esami di coscienza che faccio a me stesso. E più una cosa è potente, mi fa star bene, mi cambia in meglio la vita e più ci tengo gli occhi sopra. E voglio delle verifiche, voglio delle certezze, voglio sapere la verità anche in modo spiegato. E a volte mi metto in dubbio la cosa che magari mi ha cambiato la vita in meglio. Mi metto in dubbio. Ma non sarà un'illusione? Ma non sarà che pensando di fare del bene ho fatto del male? Ed è un casino. E siccome il luogo comune è che le donne sono complicate e i maschi sono semplici, quando lavoravo, il mio capo che era una donna... Perché adesso non lavori più. No, quando lavoravo, facevo un lavoro normale. Quando facevo un lavoro serio. Sto fancazzista. Sto fancazzista. Quando facevo l'informatico, quando lavoravo in ufficio, il mio capo che era una donna mi diceva ma tu sei una donna. Con un tocco mediterraneo però. Con un tocco mediterraneo. Intendeva dire che io sono uno molto problematico. Ma allora tutti i personaggi di Dostoyevski sono donne. Non avrei risposto così. Però sì, io vivo così. Io vivo così. Vivo con continui e periodici esami di coscienza. Anche spietati. Il che non vuol dire che io a volte non sia così abile da autoingannarmi comunque e di sfuggire da tutti questi controlli. Però io ci provo. Ma in realtà. Ho capito. Provo a buttarti la provocazione. Dai. Ma quanto si sta bene su internet? Magari ascoltando comodamente l'ultimo Daily Cogito sul divano. E quando si sta bene, beh, pensare alla sicurezza è una cosa molto difficile. Ed è per questo che qui su Daily Cogito noi collaboriamo con NordVPN per ricordarvi, anche quando siamo comodi, quanto sia importante proteggere la propria connessione internet. NordVPN è azienda leader nel settore delle VPN, una sorta di tunnel crittografato che nasconde i tuoi dati in entrata e in uscita quando navichi su internet, tanto usando il wifi di casa tua quanto la connessione dell'università. Un modo perfetto per tenere lontani i malintenzionati che, sapendo quanto sono preziosi i tuoi dati, vorrebbero accaparrarseli. Sottoscrivere un abbonamento con NordVPN è una cosa molto saggia, non solo perché in questo modo riuscirai a mettere in sicurezza la tua navigazione online, ma anche perché avrai accesso al servizio Threat Protection, un anti-malware e anti-spyware sempre attivi sul tuo computer, anche quando la VPN è disattivata. E poi, grazie a noi e al link che trovi in descrizione, potrai avere accesso a un super sconto sul piano biennale, con quattro mesi gratis in più, ovviamente con il servizio 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Grazie a NordVPN e grazie a voi, non ve ne pentirete. E adesso torniamo allo show. Va bene. È una lotta, non è un dialogo. Sì. Vai. Quello che mi hai appena raccontato. Sì. Questa descrizione di te. Sì. E non è una storia che ti racconti. Eh, appunto. Cioè... Sì, sì. Però... Sì, mi dico, ma è vero. Ma è vero che io metto in discussione... Tutto, tutto. Allora, mettiamo in discussione la mia missione di discussione. Ma è vero che io metto in discussione in me... Un inferno. Un inferno. Cazzo, che disastro, Rob. È così. È durissima essere Roberto Mercadini. È durissima. Ce l'ho fatto solo io. Ce l'ho fatto solo io. Ma quando è che lasci tua moglie e ci sposiamo, Rob? No, allora... No, questa adesso, al netto delle battute. è come... Perché... Se no cosa fai? Se no ti rassegna il fatto che non potrai sapere la verità. No. Tu la devi cercare. Però tu sai che la verità ha due facce. Che tu, in quanto essere umano, sei bravissimo ad autoingannarti. Sei bravissimo a razionalizzare le cose. A inventare motivazioni che non sono reali. A raccontarti storie. Allora ti devi mettere sotto pressione continuamente. E quando c'è qualcuno che ti fa una critica, che mette in dubbio la tua certezza, quello è oro. Io ho parlato con un signore che è un grande conoscitore della psicanalisi freudiana. Siccome ci conosciamo, ci siamo visti, abbiamo scambiato qualche parola, ci siamo incontrati via Facebook, li fanno queste analisi spietate, spietate, anche dell'attualità dei fatti di cronaca, sotto la prospettiva della psicanalisi freudiana. Allora io ho detto che cosa affascinante, che cosa affascinante riuscire a spiegare, riuscire a commentare i fatti di cronaca dal punto di vista freudiana. Lo voglio imparare a farlo anch'io. L'ho chiamata a casa mia, è un mio estimatore, quindi è venuto volentieri e abbiamo parlato. Problemi con la mamma ti ha detto? Tutto quanto freudianamente. E per me è stato meraviglioso. E il giorno dopo ci siamo scritti, io l'ho ringraziato, è stato bellissimo parlare con te. Lui ho detto, ma guarda che quando io dico le cose che ho detto a te, tipicamente incontro delle chiusure, le persone si chiudono a riccio perché non vogliono sentire queste cose. E' rarissimo vedere una persona aperta come te, accogliere. E la cosa strana è che tu non le accogli supinamente, prendendole per arrocolato. Tu le accogli criticamente, facendo delle domande e voler capire, le accogli attivamente. Se uno mi mette in difficoltà perché mi dà una visione delle cose che è l'opposto di quello che pensavo io, che non era assicurante. Io la voglio sapere. Io la voglio sapere e la voglio testare. Voglio essere messo alla prova, capito? Ah ma no, sennò troppo fa, sennò che gusto c'è? C'è lo sprezza la cicuta di là nel caso. Capito? Sì, sì, no. Poi magari sono talmente bravo che mi frego e mi racconto una storia e mi illudo. Però io ci provo, capito? Questa è un po' la differenzazione che facevo. Da un lato ci sono gli autoinganni che ti fermano, ti consolano. C'è l'autoinganno che ti fa dire, vedi che avevo ragione, vedi che quello che dicevo io era giusto. E' che sono tutti i bias di conferma, di cui siamo riempiti. E quelli sono gli autoinganni che poi alla fine ci portano a raccontarci delle storie. Tipo non so, visto che ho una relazione con questa persona, allora tutto quello che mi sembra confermare il fatto che questa relazione dura per sempre, io me lo piglio. Tutti i segnali che mi portano a pensare che qualcosa non va, li metto da parte. Ok, questi sono gli autoinganni che in realtà ti consolano, ti rendono statico, poi la realtà arriva, ti tira un tram sui denti devastante e tu dici Ah, che inganni sbagliati che mi sono raccontato. Dall'altra parte ci sono gli inganni appunto che ti portano a dire, no, adesso guardo le storie. Cioè voglio dire adesso, dal momento in cui questa è una persona che parla di Freud, sicuramente ti ha ingannato. No, sto scherzando, sto scherzando. Però è interessante perché tutto quello che lui ha fatto, adesso io posso immaginarmi il dialogo che avete avuto, tutto quello che avete avuto come dialogo, di fatto è una storia, cioè nel senso è una storia, tutto quello che è nel linguaggio diventa simbolo, in quanto simbolo diventa traditore del pensiero, insomma tutte cose che sappiamo bene. Quindi di fatto è un inganno. Poi è un inganno che si spera il più aderenti possibili. Che senso è un inganno? E il linguaggio è un inganno. Cioè il linguaggio è un inganno nel senso che è un simbolo che tradisce anche le intenzioni di quello che vogliamo trasmettere, ok? Cioè nel senso, nel linguaggio non può starci la verità. Nel linguaggio ci stanno alcuni barlumi di verità. Logos tradisce logos. Il pensiero non può mai trovare la sua perfetta manifestazione del linguaggio. Il linguaggio è sempre un'approssimazione. L'approssimazione è un'approssimazione, l'inganno è un'inganno. Beh, l'approssimazione è una costruzione che tenta di aderire a una realtà, ok? Ti guida vicino. L'inganno nel senso molto ampio del termine, quindi una narrazione. Sì. Quindi voi vi siete raccontati questa storia, questa storia ti ha messo in difficoltà, tu che sei un narratore, hai raccontato la tua storia e questo ha creato questo contrasto che ti ha permesso di nutrire la curiosità e via dicendo. E questo è il metodo del dubbio, ok? Cartesio. Anche questo però, di nuovo, non ha a che fare mai con la verità. Ha a che fare con l'idea, per esempio, che tu ti sei fatto di te stesso. Così come probabilmente il tuo interlocutore ha usato il linguaggio per confermare e nutrire l'idea che lui aveva di se stesso. E in fin dei conti noi siamo sempre presi in questo metodo. L'abbè, l'abbiamo messaggio. In dubbio l'idea cosa di me stesso. In che modo? Quando abbiamo parlato? Dice, guarda, se dovessi sintetizzare la psicanalisi, direi così. Quello che dice Terenzio, homo sum, umani nil ad me alienum puto, sono un essere umano. Non ritengo estraneo a me nulla che sia umano. Se c'è uno stupratore, vuol dire che anche dentro di me c'è uno stupratore. Se c'è un assassino, vuol dire che anche dentro di me c'è un assassino. C'è la possibilità di uccidere. Se c'è un ladro, se c'è un omosessuale, vuol dire che anch'io sono un ladro e sono un omosessuale. Solo che dentro di me questi fenomeni sono per ora tenuti a bada. Sono per ora nascosti, come sono nascosti i miei organi interni finché non mi sbudellano. Ma i miei organi interni ce l'ho, ce l'ho il fegato, ce l'ho la mirza, ce l'ho il cuore, ce l'ho i polmoni. Non è aderente all'idea che hai di te stesso pensare che tu sei uno stupratore, un assassino, un omosessuale. Impotenza. Impotenza. Cioè, non ci siamo proprio confermati. E questa è la cosa che, diciamo così, è emersa da questo dialogo. Sì. Trova sempre Hitler allo specchio, no? Cioè, nel senso è questo il senso. Sì, sì. Ma la cosa interessante è quella lì. Cioè, non avere conferme di te. Certo. Guarda, un po' di conferme sì, però sono conferme. Eh, due scatole. Scusa, se non c'è qualcuno che ti metti in difficoltà, cosa vivi a fare? Cioè, se non hai il dubbio, se la tua verità non è mai in pericolo, che senso ha? Però questo ha a che fare con il tuo carattere. Guarda, sai quanto io sei d'accordo con questa cosa qua? Però cerco di fare l'avvocato del diavolo. Vai, dai. Questo ha a che fare con il tuo carattere. Cioè, ci sono tantissime persone, non per decisione o per determinazione, che non riuscirebbero mai a sopportare una cosa del genere. Cioè, questo psicologo ti ha detto, di solito le persone reagiscono così. Si chiudono. Si chiudono. E questo non è che dipenda necessariamente da una decisione, da una debolezza, dipende dal fatto che siamo tutti completamente diversi. Ci sono persone che non sanno sopportare l'idea che, se guardi allo specchio, ricordati che potresti vederci Hitler o qualunque altro carnefice, Ted Bundy. Sì, però io sono andato a scuola. Cioè, cosa ti dicono a scuola? Non ti dicono così che devi cercare la verità anche se è doloroso. Quando tu studi Leopardi, cosa ti ricordi di Leopardi? Leopardi nella ginestra ha messo in esergo un verso del Vangelo di Giovanni rovesciandone il senso. La citazione è, e gli uomini preferirono piuttosto la tenebra che la luce. Nel Vangelo di Giovanni vuol dire che gli uomini non riconobbero Cristo e lo crucifissero. Nella visione di Leopardi, Atea, significa che gli uomini hanno ceduto all'illusione del cristianesimo e non hanno riconosciuto la verità nella sua spietantezza Atea. Non so se mi spiego. Mi spiegano che il coraggio per Leopardi è quella cosa lì. Non è uccidere il drago e salvare la principessa. Non è andare in battaglia. È guardare in faccia la realtà anche se è terribile. A me quella roba lì mi è rimasta impressa. Avevo 17 anni, 18 anni. Non so quando si studia Leopardi al liceo. Però a me è rimasta impressa quella cosa lì. Allora vedi, torniamo di nuovo a quel punto lì iniziale. Per Leopardi, per come lui è costruito, per la sua costruzione psicologica, fisica, simbolica, è vero il nulla eterno. Ora, possiamo dire che Leopardi da questo non ha tratto un grandissimo giovamento. Però era vero per lui. Per Roberto Mercadini è vero il mettere sempre in discussione completamente l'idea che ha di se stesso. No, quello è il mezzo per arrivare alla verità. Non è vero il mettere in discussione. Cioè, quello è il mezzo che serve per arrivare alla verità. E qual è la verità di Roberto Mercadini? Cioè, le cose di cui sono convinto. Che sono varie e che però metto in discussione, come ti ho detto, periodicamente. Ok, non vuoi sbottonarti con degli esempi. Ah, interessa vero. Cioè, nel senso, questa roba qua è di rimente. Ah, vuoi degli esempi di cose che ritengo vere? Dimene una. Cioè, mi hai detto il metodo. Ok. Una cosa che ritieni vera e in cui applichi questo metodo qua. E che hai scoperto, grazie al metodo, mettendo in discussione ciò che pensavi prima. Sì. Allora, ma guarda, adesso è una cosa lunga però. Un fatto è questo, è che la normalità, il senso della normalità, l'idea della normalità è un'illusione, come una sorta di narcosi. E che nel mondo ci sia una quantità di magnificenza, di bellezza, di mostruosità terribile, tale che noi non riusciamo a valutarla nel tempo ordinario. No? Ok. Ed è come se fossimo separati dalla realtà da una coltre che ogni tanto si apre per nostra volontà o per un accadimento esterno e vediamo la verità nella sua forza. Tu pensa a quanto è strano pensare alla morte, nel fatto che uno morirà. Eppure quando muore qualcuno non ci sarà più, non c'è più. Questo è strano. Oppure quanto è strano pensare alla nascita. Pensare che noi eravamo un grumo di cellule e poi un essere minuscolo e siamo passati da dove siamo passati. C'è un essere umano con dentro un essere umano, la madre con il feto dentro. Ora, nessuna cosa è più sicura del fatto che siamo nati e che moriremo. Nessuna cosa è più naturale di nascere e morire. Certo. Che razza di modo di vedere la realtà è questo? Che abbiamo noi nella vita di tutti i giorni. Per cui ciò che è più sicuro sembra impossibile. Per cui ciò che è più naturale sembra assurdo. Capisci? Io da quando ho 19 anni penso così. Penso che noi viviamo una sorta di narcosi che dobbiamo continuamente spezzare. Dobbiamo squarciare il velo continuamente. E ciò che ci squarcia il velo è, per esempio, la scienza. A volte la grande arte. E se noi squarciamo il velo capiamo che noi siamo più grandi di quello che pensiamo. Che la nostra identità... Io sono Roberto Mercadini nato a Cesena il 15 febbraio. E' un'illusione. Sono più grande di questo qui. Cioè, capito? Questo è una verità molto profonda. Nel raggiungimento di questa verità tu hai seguito un metodo. Sì. Che è quello che ci hai descritto. Il metodo del dubbio. Allora, ritorno al dubbio che voglio prima. Che è un dubbio che non si può togliere di mezzo. È una cosa che mi fa riflettere. Con cui mi sveglio dico, cazzo non l'ho ancora risolto. Non ho fatto il sogno che mi ha fatto risolvere questa roba qua. Ci sono altri metodi per far arrivare una persona a questa cosa qua. E per quanto io condivida il metodo che tu hai descritto, perché anche io sono una persona che, diciamo così, si mette in discussione sempre e ama incuriosirsi e scoprire roba che contraddice la mia visione dei fatti, però credo che ci sia una vasta porzione di persone al mondo che per come è fatta, per quello che sta nella propria testa, per la loro esperienza, usano altri tipi di inganno. E in quegli inganni può esserci anche un inganno che abbiamo definito non socratico. Un inganno che può essere una storia magari più superficiale, magari meno elaborata di quella cosa lì, ma che permette loro di togliere di mezzo di, come diceva Spinoza, emendare. Allora, visto che abbiamo parlato di Spinoza, ok? Pensa soltanto all'etica di Spinoza. L'etica di Spinoza, che è un testo che io ci farai l'amore con l'etica di Spinoza, è un incredibile, straordinario, mirabolante autoinganno di un uomo intelligente, fantastico e immaginifico. L'idea che il comportamento morale dell'essere umano, quindi il suo fare il bene, il perseguire il male, derivi da un rapporto geometrico con l'etica. E quindi che la nostra morale possa essere misurata, così come misuriamo il trapezio su un foglio, oppure gli angoli di un quadrato, e allo stesso modo tu puoi arrivare a dimostrare ciò che è bene e ciò che è male. E, attenzione, quell'autoinganno... Noi lo sappiamo che questa cosa è una cazzata incredibile. Lo sappiamo che la morale umana non è geometrica. Lo sappiamo che il bene e il male non si misurano come misuri i lati di un triangolo, come fai un teorema pitagorico. È un bellissimo sogno, sarebbe meraviglioso se fosse così. Allora significherebbe che sì, allora è meglio diventare tutti algoritmi molto complicati che ci fanno fare solo il bene perché è una formula matematica. Oh, che stupendo. Non è così, non è così. È un autoinganno di proporzioni in mani che un uomo ha perseguito per tutta la sua esistenza. Un uomo tra i più intelligenti degli ultimi quattro secoli. Un uomo che ha cambiato la storia dell'Europa e che ha visto la verità. Io non posso non leggere le pagine di Spinoza e non dire quest'uomo ha visto il vero. Quest'uomo è riuscito a emendare il casino di un'esistenza molto complicata, a ripulire tutto quanto ciò che c'era di ingannevole, mistificatorio, e ha visto qualcosa di vero con una menzogna di livelli spropositati. E la menzogna era l'idea che, come hai detto tu, la morale è qualcosa che si può descrivere geometricamente. Cioè, guarda questo è bellissimo, ascolta. Un irrazionale ricorso alla razionalità. Una fede cieca nella ragione. Nella mancanza di fede, quindi. Assolutamente. Una fede cieca nella mancanza di fede. Però quello che ha trovato gli ha salvato la vita. No, tu hai detto... Cavolo, sì! Ehi, come dice voi, il grimaldello, il piede di porco che ha liberato qualcosa di autentico. Però un altro ebreo, un altro ebreo... Sarata sugli ebrei questo. Sarata sugli ebrei, certamente. Che ha scritto un libro che cita nel titolo Spinoza... Woody Allen. Wittgenstein ha scritto il Trattatus Logico Filosoficus e dice le mie proposizioni... E scrive, come nell'Etica, no? Wittgenstein scrive questo libriccino di 70 pagine con degli aforismi, delle brevi frasi che sono numerate 1.1, 1.1.1, 1.1.2 E la penultima proposizione dice... Le mie proposizioni illustrano così... Chi le comprende, infine, le riconosce insensate. Se è salito su esse, per esse, oltre esse... Egli deve, per così dire, gettar via la scala dopo che vi è salito. E questa è l'idea. Certo. Usi il Grimaldello, il piede di porco, per aprire la gabbia e far uscire la tigre e poi il Grimaldello lo butti via. Assolutamente sì. Supera il tuo maestro. Supera colui che ti ha dato gli strumenti per arrivare fino a lì dove c'è arrivato lui. Poi, sai, il grave problema delle questioni filosofiche che abbiamo discusso, la morte, l'innamoramento, la perdita, è che non puoi fare come quando, di nuovo, si studia la forza di gravità. Quando studi la forza di gravità puoi poggiarti sulle spalle dei giganti. Newton scopre delle cose, Einstein si poggia sulle spalle di Newton e amplia la visione di Newton e così via. Perché nella scienza empirica le scoperte fatte fino adesso possono essere riviste ma di solito non vengono gettate via del tutto. Diventano materiale buono per la prosecuzione. Ci sono casi particolari del caso più generale. Esatto. Nell'ambito invece della ricerca intorno alla nascita, alla morte, al senso, al significato dell'esistenza, alla passione, al destino che uno ha, al ruolo che uno ha nella vita, tutte cose che... Con cui tutti quanti ci svegliamo ogni giorno e ci arrovelliamo la testa molto più che la forza di gravità, lì si ricomincia sempre da zero. Wittgenstein ti dà lo stimolo, ti dà un metodo, come te lo dà Spinoza. E questi metodi sono tutti autoinganni che quei filosofi hanno usato per arrivare a discostare la confusione e vedere qualcosa di vero. quello che loro fanno è darti l'esempio di come loro hanno vissuto attraverso quell'autoinganno, quella ricerca. Tu devi trovare il tuo autoinganno. Ed è questa la cosa veramente complicata. Che sei tentato di replicare l'etica di Spinoza. Sei tentato di riscrivere la scienza della logica di Hegel. Sei tentato di scrivere la genealogia della morale di Nietzsche. Quando ci provi ti senti un cretino? Perché non è il tuo? Perché tu sei diverso da quegli individui? E allora lì veramente c'è la divisione dell'inganno consolatorio e l'inganno che ti fa progredire. L'inganno consolatorio è quello in cui tu imiti qualcun altro. Ti fai dare non solo le risposte di qualcun altro, ma anche il metodo di qualcun altro, il grimaldello di qualcun altro. Dall'altra parte invece c'è chi prendendo l'esempio degli Amleto dei Wittgenstein dice no, me la faccio io il mio grimaldello, me lo faccio io il metodo. Ci vuole un'intera vita per fare quella cosa lì. Ed è molto complicato. Non c'è un metodo così come non c'è una storia, non c'è un inganno. E mi sembra, e con questo poi mi piacerebbe andare anche alla conclusione e sentire le loro domande perché mi sa che ne hanno un po'. Mi sembra che l'inganno stesso poi abbia il reale peso in quella che sarà la verità che vai a scoprire. Cioè il metodo che usi per discostare la confusione in fin dei conti sarà in qualche modo la verità che intravederai. perché non c'è niente oltre al metodo in fin dei conti. La verità di Spinoza è stato il metodo di Spinoza. La verità di Roberto Mercadini è quella che mi hai descritto. È il metodo che mi hai descritto. Cioè tu sei veramente un individuo che mette in discussione l'idea che ha di se stesso. Sì. Ti faccio due esempi. No, finisci. Dopo ti faccio due esempi. Cioè Amleto è veramente l'individuo che svela la verità con la finzione. Il metodo che scegliamo è poi la nostra verità. E quindi è il motivo per cui la verità poi è un inganno. È un autoinganno. Io mi impongo proprio questa cosa di vedere le cose da una prospettiva diversa, no? Sì. Per non ristare e non ristagnare nelle certezze. Allora io da ateo a un certo punto mi sono detto ma e se c'ha ragione? E se c'ha ragione? E se c'ha ragione? E se c'ha ragione? E per molto tempo sono andato a messa la domenica, cioè da ateo, facendo questo esercizio di contorsionismo mentale di sforzarmi di vedere come potevano vedere le cose i fedeli. Certo. Capito? Sì, sì. Mettendomi in dubbio e da un certo punto mi sono messo a studiare l'ebraico antico per leggere la Bibbia. Capito? Sì, sì. E andavo a messa e poi a un certo punto mi hanno notato che ero lì. Io poi non facevo, non prendevo la comunione perché ero ateo. Perché era il corpo e non volevi. Sì, no, no. Però mi facevano leggere la Bibbia. Faccio la lettura domenicale da ateo, la facevo con una passione. e perché sai, io ero abituato... E' convinto tutti di essere un uomo di fede incredibile, sono convinto. immaginate lui che legge... Eh sì, sai, ti danno... Il principio! C'era creato un problema perché alcuni venivano... Per sentirti? Sì, poi andavano via. Poi hai fatto concorrenza al prete. Sì, esatto. E guarda che quello è il motivo per cui hanno scomunicato Spinoza, io te lo dico, eh, perché facciamo concorrenza ai rabbini. Non è una buona decisione. E l'altra cosa... a giorno buono della vita io da razionalista ho detto voglio imparare a leggere i tarocchi che non riuscivo a capirmi con una persona dice voglio imparare a vedere le cose nel modo più lontano da me allora qual è la cosa più repellente i tarocchi studio i tarocchi imparo a leggere i tarocchi io da ateo razionalista ho studiato i tarocchi e nei tarocchi ci sono gli arcani maggiori queste 22 figure sai c'è il mago l'eremita il diavolo il papa la papessa e ce n'è uno bellissimo che è l'appeso ah sì certo che è se non mi sbaglio ma mi potrei sbagliare mi potrei sbagliare sicuramente è l'arcano dodicesimo che è un uomo appeso a testi in giù per il piede giusto per il piede che in alcune carte sorride però e ha addirittura una luce attorno alla testa e quello se tu leggi i manuali direttamente ti spiegano che colui che pur di vedere le cose come le vedono gli altri è disposto a mettersi a testi in giù quindi in una posizione molto scomoda anche dolorosa certo è quello che sto facendo io io che imparo i tarocchi sono l'arcano dodicesimo sono quello che si mette a testa in giù pur di capire gli altri assolutamente mi hai fatto venire in mente io ho due esempi molto più bassi di quelli che hai fatto tu in cui ho cercato di fare esattamente quello il primo è stato quando facevo quando lavoravo come promotore finanziario a un certo punto ero talmente fuori dal mio dalla mia zona di comfort che quando andavo in ufficio al mattino io che magari non so avevo voglia di discutere di Tolkien di Kierkegaard e via dicendo si parlava solo di calcio solo di calcio solo di calcio e di altri argomenti che vabbè potrete sicuramente indovinare l'ambiente piuttosto mascolino e mi sono fatto l'abbonamento alla gazzetta grande vale come un corso di tarocchi ho fatto l'abbonamento alla gazzetta grande grande per avere argomenti di discussione sì non vi dico quanto ci sente coglioni e e poi l'altra cosa in realtà un po' più un po' più elevata è che io ho fatto una cosa simile alla tua con i tarocchi ma con con i Ching io per prendere per il culo un mio amico universitario che usava gli Ching ogni giorno ho comprato l'I Ching e ho imparato a utilizzarlo sia con le monete sia con gli steli andare in giro con gli steli era un po' un casino te lo dico ok cioè tipo dove andare in giro tipo con il porta frecce degli elfi ok non è il caso non è il caso ti guardano male così andavo in giro con le monete e in realtà l'ho usato per due anni e mezzo l'I Ching poi perché ho scoperto scoperto che è una figata incredibile perché perché nella mia mente l'I Ching per chi non lo sa l'I Ching è questo testo della tradizione cinese la versione che noi abbiamo ha circa 1600 anni però in realtà si dice che venisse utilizzato ancora 4000 anni fa in versioni un po' più primordiali quindi è un testo più antico dei dialoghi che noi leggiamo di Platone Aristotele quindi è un testo piuttosto antico ed è fatto di è costruito con degli aforismi e dei paragrafi che cercano di rispondere a delle domande e tu cosa devi fare? devi farti una domanda e poi getti queste monete per tre volte e sulla base della combinazione delle monete che hanno due facce diverse tu arrivi a determinare qual è l'aforisma che ti serve per quella domanda ora gli scemi usano Li Ching come se l'aforisma fosse la risposta alla loro domanda ed è una stupidaggine perché Li Ching è stato scritto da centinaia di cinesi migliaia di anni fa che cacchio ne sanno di uno che vive in Italia nel 2022 ok immaginatevi se Li Ching può dirti eh guarda che devi usare meno l'iPhone no non lo scrive ok in realtà Li Ching ha la funzione di farti porre meglio le tue domande quindi l'aforisma che emerge è un aforisma che mette in discussione la domanda che ti sei fatto l'intento di Li Ching è dirti guarda che stai sbagliando la domanda per questo che Douglas Adams nella guida galattica per autostoppisti ci mette dentro Li Ching e dice la guida galattica per autostoppisti ha un grande antenato Li Ching e tu stai perché ecco è per questo motivo quindi ecco anch'io sono caduto in queste cose anch'io sono caduto in autoinganni che poi non erano i miei è stato doloroso ma anche interessante e credo io non so io non so se abbiamo tirato fuori delle verità in questa in questa chiacchierata Rob secondo te abbiamo detto qualcosa di vero o ci siamo completamente autoingannati no secondo me abbiamo posto abbiamo fatto delle domande come Li Ching sì abbiamo fatto delle domande su cosa sia la verità e siamo arrivati da qualche parte abbastanza 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 abbiamo stato un navigatore un navigatore un po' spuntato per la verità che dici eh sì abbiamo insomma abbiamo traghettato abbiamo traghettato abbiamo sì sì abbiamo navigato è stato come sempre fantastico chiacchierare con te Rob io adesso lascerei spazio alle domande loro se sei d'accordo cosa dici perché sento fremere forse hanno anche un po' di paura a fare le domande ma secondo me sì gli abbiamo intimoriti un po' allora io Rob ti ringrazio tanto per questa chiacchierata che è stata spettacolare veramente eh grazie adesso grazie grazie immaginavo penso a te comunque è surreale il format perché dopo un'ora e un quarto di discorsi sulla morte bravi ci mancavi fischi ancora morte no allora io ringrazio anche quelli che stanno seguendo in live non so quanti sono non so quanti quanto sono addormentati ma grazie mille per esserci adesso noi chiudiamo la trasmissione per chi sta seguendo indifferita ma non andatevene anche dall'online e ovviamente qui voi a teatro non andatevene perché insomma altrimenti vi perdete un'altra parte bella che è la parte di domande risposte quindi adesso noi passeremo alle curiosità cercheremo di sviscerare ulteriormente i temi fatti e potete farci domande e andremo avanti per una quarantina di minuti a chiacchierare ancora quindi grazie mille a tutti quanti grazie a Villa Torlonia grazie a tutti quelli che hanno reso possibile questa data e ci rivediamo lunedì ovvero domani che è il 3 a Milano all'Arcibellezza poi Firenze martedì 4 e a Schio mercoledì 5 per la conclusione di questo tour non vedevo l'ora però di essere qua con Roberto che è l'anima l'anima di tante cose che ho fatto in questi anni quindi grazie mille Rob veramente grazie mille e sigla belli che belli che belli che siete grazie a tutti